Nessun controllo. Prato della Valle è la piazza più importante della città in mano ai venditori abusivi che sarebbero stati addirittura previsti con tanto di merce esposta in un video circolato a sostegno dell'amministrazione Giordani Lorenzoni nella scorsa campagna elettorale. La denuncia arriva da diverse associazioni di commercianti, dall'ASCOM alla CC. Sabato, giorno tradizionale di mercato nell'area che circonda l'isola Memmia, la vera e propria prova del 9. L'intanto i commercianti da giorni puntano il dito contro le promesse non mantenute dalla Giunta Giordani. Con tutti i suoi problemi e con la crisi che investe i negozi, in particolare sotto il salone e nelle piazze, è necessario salvaguardare il commercio, soprattutto quello di vicinato, fulcro dell'economia e della città e sentinella per evitare che si espanda il degrado.